A Napoli, Assoturismo e Confesercenti incontrano il Ministro Garavaglia. Marco Bottieri, di cosa avete parlato? Abbiamo fatto una serie di proposte al Ministro per quanto riguarda le problematiche che il mondo del turismo sta vivendo, in particolare del mondo del turismo campano ma anche quello nazionale. Siamo riusciti ad avere una buona attenzione da parte del Ministro perché poi ci è sembrato anche molto preparato per quelle che sono le nostre problematiche, anche locali. Abbiamo affrontato anche il problema dell'isola Covid-free dove ci siamo anche complimentati con lui perché comunque è andato incontro a quelle che erano le proposte dell'Onorevole Presidente della Regione Campania, De Luca, andando anche un po' contro ad alcuni politici parlamentari che non volevano questo provvedimento. Lui ha capito la bontà dell'iniziativa, ha capito che comunque investire sulle isole significava investire su tutto il comparto campano, quindi partendo le isole partiva tutta la filiera campana. E cosa importante da sottolineare è che ha capito anche che la comunicazione, ci ha sottolineato anche lui più volte, che la comunicazione purtroppo spesso ci penalizza. Quindi la comunicazione è sbagliata, parlare troppo spesso, di polemizzare soprattutto su questi argomenti non fa bene al turismo. E comunque poi sabato mattina però c'è stata la manifestazione a Pompei di tutto il comparto dei lavoratori, del turismo che ancora langono e lamentano situazioni che non sono ancora al top. Tra questi è anche il sindaco di Forio e il presidente Lanci, Francesco Del Deo, che ha rappresentato le istanze che ha voluto scrivere anche allo stesso Garavaglia. Sì, anche con il sindaco di Forio mi ero anche confrontato, prima di andare all'incontro perché sapevo che lui l'avrebbe incontrato poi subito successivamente. e abbiamo fatto anche delle nostre istanze al ministro. Cioè una delle istanze che abbiamo fatto è quella di poter spalmare in 15 anni i debiti che le aziende del turismo hanno contratto in questi 18 mesi. Un'altra è quella di poter rivedere l'IVA sul comparto turistico, che è molto alta rispetto a altre località come la Spagna e quindi ci rende meno concorrenziali. E poi il ministro ci ha assicurato che stanno lavorando per un brand Italia e anche per un sito unico che possa poi essere utilizzato dalle varie regioni. Quindi ci sono buone prospettive per una ripresa in sicurezza? Sicuramente, bisogna lavorare ancora molto, però già il fatto di avere un ministero del turismo, già il fatto che hanno capito che comunque sul turismo andava investito di più, e in questo il ministro ci ha dato l'assicurazione che stanno sviluppando i loro uffici in modo da essere poi pronti anche per il futuro. Quindi adesso nell'immediato ci saranno sicuramente le iniziative importanti che possono portarci dei vantaggi nell'immediato, però si sta lavorando anche per il futuro. Grazie! Grazie a tutti.